Mt, un'azienda che lavora nel settore accessori per le macchine utensili, sviluppa un prodotto che si chiamano utensili motorizzati e sono degli aggregati per queste macchine utensili, prevalentemente torni e controllo numerico. Abbiamo diverse novità quest'anno che abbiamo iniziato a elaborare già circa un anno, un anno e mezzo fa, ma presentate con forza quest'anno, dove abbiamo un elettromandrino che è un motorizzato molto particolare che permette di fare alte velocità, quindi 60.000 giri, in elettrico senza utilizzare nessun tipo di cavo o accessori vicini. Abbiamo un sistema di protezione delle misure di sonde in macchina per controllare sempre di più la precisione, e la qualità dei prodotti, dei pezzi fatti. E per finire abbiamo due utensili motorizzati che servono per cambiare angolo di lavoro, quindi poter fare diverse inclinazioni di forature o fresature, comandati o dalla macchina utensile o addirittura da un accessorio come un telefono o un iPad fuori macchina. Questi invece sono nuovi prodotti veramente di ultima generazione, dove siamo riusciti a inserire quello che è la sensoristica, quindi l'elettronica per la gestione della manutenzione predittiva anche dei prodotti meccanici. È una novità assoluta perché anche questi motorizzati non hanno bisogno di cavi o di qualsiasi tipo di collegamenti elettrici, ma riusciamo a far trasmettere le informazioni senza nessun ausilio fisico. Visto tutte le novità che vi ho fatto vedere oggi, MTA ha già in programma di creare e presentare sul mercato a breve altre novità importanti, sempre nel settore della meccanica. Quindi siamo dietro a sviluppare nuove tecnologie per le lavorazioni meccaniche sui torni. Grazie a tutti!